La sicurezza degli edifici scolastici deve essere una priorità. L'indicazione non arriva da politici o tecnici ma dagli stessi allievi delle scuole che si sono ritrovati alla biblioteca San Giorgio di Pistoia per gli stati generali degli studenti della provincia. L'appuntamento a cui hanno partecipato anche amministratori locali è uno di quelli che compongono il calendario di iniziative del Parlamento regionale degli studenti. Un'occasione di confronto e dibattito con le istituzioni locali sulla situazione sociale dei giovani e degli studenti del territorio per far emergere le problematiche che interessano gli istituti superiori ma anche idee proposte di sviluppo e sostenibilità da presentare alle istituzioni sulla strada di una rappresentanza scolastica sempre più consapevole e responsabile. I ragazzi del Parlamento hanno lavorato per due anni sul tema della scuola e poi su altri temi e si è visto che comunque l'edilizia scolastica è un problema che va per le lunghe. Infatti oggi abbiamo voluto far incontrare i ragazzi e gli assessori in modo che si possano discutere su quello che si può veramente fare in regione e in provincia. Che proposte fate alle istituzioni toscane come studenti e quindi persone che vivono direttamente tutti i giorni i problemi della scuola? Intanto gli studenti vorrebbero che venissero risolti i problemi immediati. Non chiediamo ad esempio le aule ridipinte o altro, però ad esempio se casca qualcosa vorremmo che non cascasse. Che scuola immaginate? Immaginiamo una scuola sicura dove si possa studiare senza paura che crolli qualcosa.